complimenti complimenti ragazzi sto volando questo è ciò che volevo da loro dalla prima esibizione ad oggi quello che richiedo quello che sembrava che stessi criticando invece no questo era ciò che mi aspettavo e veramente dovessero andarsene adesso escono a testa altissima questa canzone il motivo per cui loro sono dentro e in melancolia sono usciti io ho sempre preferito melancolia lo sapete l'ho sempre ne ho sempre parlato benissimo ma se sono stati fatti fuori è stato perché hanno sbagliato le scelte loro anche quando ci sono state scelte sbagliate attorno a loro sono andati come dei muri con umiltà a testa alta loro stessi fregandosene di volercela fare mentre magari melancolia volevano farcela a tutti i costi benedetta si vedeva che voleva farcela loro non gliene frega niente loro non li e suonavano e suonavano e suonavano e stasera si è trovato il compromesso perfetto questa canzone è veramente bellissima e loro l'hanno cantata veramente da paura quanto cuore quante emozioni io ho visto tutto il loro percorso in un'interpretazione ho visto tutto quello che c'è stato dietro il loro lavoro veramente sono a bocca aperta bellissima appena finisce tutto mi vado subito a cercare la canzone a riascoltarmela l'originale e poi anche la loro versione ovviamente perché la canzone è bellissima ma loro come l'hanno fatta loro stessi hanno portato il vero rock in questa trasmissione e questa sera io non ho nulla da dire se non complimenti complimenti e la chiudo qua perché non c'è altro da aggiungere mi avete convinto appieno stasera dopo tanto tempo di non lo so a volte non neanche l'ho commentati questi sono fuori luogo ma che state affanno da suonare i vostri concerti questa canzone qui è l'equilibrio perfetto tra quello che tra la qualità tra l'harcore e tra quello che effettivamente può piacere al pubblico a quello che non ascolta e basta a quello che sente